Scusate, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quanto meno discutibile che... Fabri, che sta succedendo? Un pianto di sicurezza. Si l'hai richiesto. Guardi, signor Preside, è tutto legale. Qui c'è la firma del Presidente della Commissione d'esame che tecnicamente è superiore a lei. Chi sarebbe? Ciao Carlo. Iniziamo con le perquisizioni. Dovete capire che io conosco tutti i vostri trucchi. Cartucera da polso, alla vita, tasche nella biancheria intima, manica del pokerista, pacemaker di Marcelletti. Marcelletti, studente di Rovigo, maturità 94. Astucci con doppio fondo, finte protesi in gessature, inserti per tacco. Che abbiamo trovato? Qualcosa qui? Inalatori perasmatici. Tutte le comunicazioni con l'esterno sono state interrotte. L'anno scorso uno studente ci ha provato con un drone. Sapete com'è finita? Abbattuto. Il ministero, il governo, l'intero paese vi guarda. Quindi, a partire da oggi avrete... Carta bianca. 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 Welcome to Hell! Welcome to Hell!